Ecco carissimi, c'è un brano della Bibbia, delle lettere di San Paolo, che mi ha sempre particolarmente colpito. È nella lettera ai Colossesi, gli abitanti di Colossio, una piccola città della Turchia di oggi, al capitolo primo, dal versetto 15 in avanti, dove dice che Gesù Cristo è il primo genito di ogni creatura, nel senso che quando noi pensiamo al mondo, pensiamo all'umanità, pensiamo che prima Dio crea l'universo e poi nell'universo gli animali e poi crea anche l'uomo, Adamo. Adamo è un nome generico, vuol dire l'umanità, l'uomo, il primo uomo. E poi dopo succede quel che succede con Eva, e poi dopo il peccato, e poi dopo allora arriva Gesù Cristo che rimedia tutto. Quindi il mondo è un mondo naturale e ad un certo punto diventa sopranaturale per Gesù Cristo e per quelli che aderiscono a Gesù Cristo. In realtà, se noi leggiamo questa lettera ai Colossesi e dice che Gesù Cristo è il primo genito di ogni creatura, da lui e in vista di lui tutte le cose sono state fatte, e questo mi fa pensare che allora il mondo è un mondo sopranaturale. In realtà, quando Dio ha creato l'uomo, dice anche nella Genesi, trovò che tutto era buono. Quando ha creato le altre cose, quando ha creato l'uomo e la donna, vede che era molto buono. Allora, se Gesù Cristo, se tutto è creato in vista di lui, ecco, allora dobbiamo dire che il mondo è sopranaturale. Chi nasce in questo mondo, in qualche modo nasce sopranaturale. ecco, certamente noi abbiamo avuto sempre il problema, dicevamo che fuori della Chiesa non c'è salvezza, che bisogna essere battezzati, dicevamo e tutti gli altri dicevano che avevamo battesimo di desiderio dei genitori o della Santa Madre Chiesa che è Madre Universale. Papa Giovanni, Papa Benedetto XVI, ha firmato un documento preparato da un lungo studio dei teologi che dice che il limbo nella Bibbia non c'è, era stato pensato per non andare all'inferno i bambini non battezzati, ma allora se non c'è vuol dire che vanno in paradiso. Dunque è proprio l'idea che tutto il mondo è un mondo sopranaturale. L'importante è che si creda. Credere vuol dire non restare chiusi in sé, ecco, il peccato di Adama è che io faccio di testa mia, Dio dica quello che vuole e gli altri se mi servono bene, se no peggio per loro. Ecco, quello è il peccato, è chiudersi in sé. Invece la fede è aprirsi, aprirsi a Dio e quindi aprirsi agli altri. E allora è per questo che c'è una frase nel Vangelo di San Giovanni al capitolo terzo del dopo discorso di Nicodemo al versetto 16 che dice, noi lo leggevamo che chi crede in Cristo sarà salvo, chi non crede, ma leggere bene il greco sarebbe da tradurre chi crede, virgola, in Cristo sarà salvo. Dove è vero che Cristo salva tutti, è lui che salva. perché è lui che di fronte alla chiusura del peccato ha preso l'umanità come la nostra e quando ha accettato di morire nella morte ha rotto la chiusura del peccato di tutta l'umanità. In Cristo sarà salvo, ma l'importante è credere, è aprirsi. E allora io penso che tutti coloro che nel mondo si aprono a Dio così come l'hanno conosciuto. Io quando vedo i musulmani con la testa in giù, di dietro in su che pregano, dicono ma se vanno a Dio come l'hanno conosciuto? Se veramente credono volete che Dio non ne tenga conto? L'importante è credere, aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. Ecco è Cristo che ce ne dà la possibilità. E questo credo che costituisca un grande motivo di fiducia. Io penso al Concilio, ho avuto la grande grazia di essere partecipato e vescovo nel Concilio Vaticano II dalla seconda sessione in avanti. Uno dei documenti fondamentali è la Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo. Le prime parole latine sono Gaudium et spes. Vuol dire le gioie e le speranze. Cioè le gioie e le speranze degli uomini, soprattutto dei più poveri, di più marginali, sono le gioie e le speranze della Chiesa, le lutte e le angosce degli uomini. Cioè non è la Chiesa di qua, è tutto il mondo di là. La Chiesa è dentro il mondo che partecipa alla vita del mondo. Ecco direi, per usare una frase, è un lievito. Cioè se tutto il mondo, se si apre alla fede in Dio e si apre alla solidarietà verso gli altri, è nel sopranaturale, nella grazia di Dio, perché è Cristo il primogenito di ogni creatura. Ecco, il Signore ha voluto rivelare queste cose. Ha cominciato dal popolo ebraico, pian piano, che Dio è al di sopra di quello che noi possiamo pensare. Si vede solo quello che fa, Yahweh, io sono il Dio per te. E poi comincia ad amare il prossimo, anche quelli che non contano, come le vedove, gli orfani, gli straniere. E poi a Gesù Cristo dà la pienezza che Dio è amore, perché è Padre, Figlio e Spirito Santo. È un grande mistero, ma un certo Monsignor Tonino, bello, l'avrete sentito parlare, non crescono molto giovani, quelli bravi, spesso muoiono giovani. Non è anche l'eccezione, ma... E allora lui spiegava perfino il mistero della Santissima Trinità. Diceva, vedi Don Luigi, che ero poi io, se fossero uno, più uno, più uno, fa tre. Ma sono uno per uno, per uno, fa uno. Sono talmente l'uno per l'altro che sono un Dio solo. Rimane un mistero, ma questo è importante per noi. Noi siamo veramente come Dio ci vuole, non se siamo l'uno per sé, ma se siamo l'uno per l'altro. Ecco, allora, questa è la vita dell'amore. Allora il Signore lo rivela, e infatti Gesù Cristo ci rivela, che Dio è la pienezza dell'amore, Dio è amore, e che tutti gli altri sono fratelli. Avete udito che è stato detto, ama il prossimo e odia il nemico? Io vi dico, amate anche il nemico. Ecco, allora la pienezza dell'amore. Lo rivela, allora la parola di Dio che si compie in quello che noi chiamiamo il Nuovo Testamento, ecco il complemento, e la presenza di Gesù Cristo nei sacramenti in particolare, nell'Eucaristia. L'Eucaristia è Gesù che si rende presente così come è entrato nell'eternità, quando si muore. L'eternità noi la pensiamo come un tempo che non finisce mai. Facciamo l'immagine del Padre Eterno, uno con una barba lunga, che sembra una noia, ma non finisce mai l'eternità. L'eternità è fuori dal tempo, non riusciamo a pensarla, perché noi abbiamo gli schemi dello spazio del tempo. Ma l'eternità, ecco, quando moriamo entriamo nell'eternità. Gesù Cristo è entrato dicendo la pienezza dell'amore, Padre nelle tue mani consegni la mia vita, e la pienezza dell'amore agli altri che è nel perdono. Padre perdona loro. Si rende presente, non perché noi assistiamo, come si diceva una volta, assistere alla Mesa, ma perché noi partecipiamo, perché noi ci uniamo a Gesù Cristo, diventiamo come lui, Padre nelle tue mani, Padre perdona loro, infatti nel morire ci dà il suo Spirito, che è lo Spirito Santo, che ci permette il nostro Spirito umano e quello che si chiude in sé. lo Spirito Santo è la pienezza del dono, la pienezza dell'amore. Allora noi andiamo perché San Giovanni, l'ultimo Vangelo, precisa tante cose. Fra l'altro noi leggevamo che inclinato il capo Gesù spirò, ma leggere bene il greco, oggi si dice, trasmise lo Spirito. Cioè ha cominciato, ha tirato l'ultimo respiro, ma ha cominciato a donare lo Spirito Santo. E noi andiamo per immergerci nello Spirito Santo, che Gesù Cristo morto e risorto ci rende. In maniera che la Messa diventa non una parentesi, ma diventa, come dice il Concilio, Vaticano II, il momento più alto, è la forza della nostra vita cristiana. Perfino alla fine, quando noi nel rito romano dicevamo Ite, Missa Est, e che traducevamo La Messa è finita, andate in pace, come dire, andate pure in pace, tanto ormai è finita. E invece quel Missa Est può voler dire è la missione, siete venuti a caricarvi dell'amore di Dio e dell'amore degli altri. Adesso andate a vivere l'amore di Dio e l'amore degli altri nella vostra vita di tutti i giorni. Ecco, vedete, ho citato la parola di Dio, la prima, una Costituzione del Concilio, la liturgia, una Costituzione del Concilio, la Gaudium et Pestis, cioè vai, è tutto quello che trovi di buono nel mondo, è segno della grazia di Dio, è sopranaturale. Vai ad aiutare tutti quanti a vivere bene la loro vita umana. E allora anche la quarta Costituzione, se vogliamo, quella sulla Chiesa, non sono la gerarchia e i fedeli che obbediscono, ma il popolo di Dio. Il popolo di Dio che deve essere caricato di questo amore, la gerarchia ci vuole come garanzia, ecco, della parola che ti arriva, della grazia del Signore che ti arriva, perché tu viva questa esperienza dell'amore, della comunione nell'interno del popolo di Dio e posso portare come lievito di comunione, di pace, di solidarietà, di pace, questo è il grande compito dei cristiani nel mondo, di essere portatori della solidarietà e della pace di Cristo. Come vedete, i quattro grandi documenti, le Costituzioni del Concilio, sono quelle che ci aiutano a capire il senso della nostra vita cristiana, ma vorrei dire della nostra vita umana. Ecco, questo per me è stata l'intuizione della lettera ai Colossesi, Cristo è il primo genito di ogni creatura. Potrei concludere con un altro brano della Bibbia, questo del Vangelo, quello che noi chiamiamo l'ultimo giudizio, l'ultimo giudizio che in realtà è il giudizio di ogni momento, in cui Dio chiama e dice venite benedetti dal Padre mio, perché? Avevo fame e mi hai dato a mangiare, avevo senti e mi hai dato a bere, ero ignudo, mi avete vestito, ma quando mai ti avrei visto, Signore? Quando l'hai fatto il più piccolo dei miei fratelli, l'hai fatto a me. Ecco, è l'amore, come dire, la realizzazione dell'intuizione che Dio è amore, andate maledetti, ma perché? Avevo fame e non mi avete dato, avevo sete, ma quando mai ti avrei visto, figuri, ti avremmo fatto a fare in digestione, no? Se non l'avete fatto il più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto a me. Ecco, direi, l'intuizione iniziale di Cristo, primo genito di ogni creatura, è la valutazione conclusiva, ma già in ogni momento, ecco, noi siamo benedetti dal Padre, se ci apriamo, se facciamo solidarietà, se ci impegniamo per gli altri, e non lo siamo se noi ci guidiamo in noi stessi, nel nostro individualismo e nel nostro egoismo.